Questo qua è il puzzo. Questi qua sono i palli che bisogna togliere, questo è perché aveva la vite che è attaccata Qua c'è stato il vigneto, ha deciso di estirparlo e quindi per estirparlo ha dovuto tagliare anche i pali. Quindi in effetti dobbiamo solo pulirla? Bisogna togliere i pali, ferro e scavare questi pali. Se ne scavavano poi che li fanno in profondità? E' abbastanza giusto. Il vigneto è meglio farlo subito, perché ora comincia cresce il letto. Questo era sempre perché ci attaccavano sopra i vigni, questi erano i tuori per le viti. Sì, perché le viti erano una spalliera. Questa è proprio un'altra volta, questo è un vigneto, quindi si devono togliere tutti questi febbi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.